La nota rivista Focus ha decretato l'estate 2022 la più calda di sempre, ponendosi però la scontata domanda. Come sarà quella del 2023? Proveremo a rispondere alla basilare domanda, ma con un'importante premessa. Il clima è, secondo la definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la misurazione di numerose variabili in un periodo di tempo che va da mesi a migliaia o milioni di anni, e il periodo classico è di 30 anni. Vedremo quindi dei dati che potrebbe sembrare inutile, alla luce della definizione, provare anche solo ad analizzare, ma al fine di questa trattazione non è tanto giocare la partita, ma mostrare che le carte del gioco vengono sistematicamente truccate. Il 4 luglio 2023 è stata la giornata più calda della storia secondo i media fedelmente allineati alla narrazione, è stato battuto il 3 luglio, già giornata record, e notate le macchie rosse sull'Europa, e come la giornata calda venga rappresentata con un vigile del fuoco davanti a un incendio. Ma la NBC, l'azienda televisiva americana, la spara più grossa. Il mondo soffoca durante la giornata non ufficiale più calda, ma è registrata. Alt alt, aspetta, non ufficiale? Cosa vuol dire? È un record a far validare, tipo 100 metri olimpici, con i cronometristi pronti a dare l'ok? E forci un titola, probabilmente il pianeta ha appena trascorso i suoi due giorni più caldi di sempre. Probabilmente i termometri erano insicuri cosa misurare? Un po' timidi? E quindi scopriamo che qualcosa non quadra, anzi, tanto, non solo qualcosa. La misurazione è stata creata da un modello informatico, secondo i dati preliminari dei centri per la previsione ambientale degli Stati Uniti e gli scienziati del progetto Climate Reanalyzer dell'Università del Maine. E tale progetto si basa su una simulazione computerizzata che utilizza dati satellitari della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, destinata alle previsioni meteo e non si basa su osservazioni riportate da Terra. Però ci dà un'indicazione chiara della storia delle temperature, il giorno più caldo di sempre, o da 2000 anni, o da 100, solamente dal 1979, anno di inizio dell'elaborazione dei dati. Non è un po' poco per assegnare i titoli dei giorni più caldi di sempre dati da un computer senza considerare il caldo periodo dell'impero romano, del basso medioevo, o se vogliamo avvicinarci a noi, gli anni 30 del ventesimo secolo, decennio torrido. Il 6 luglio la stessa NOAA manifestava prudenza. La NOAA non può confermare i risultati delle reanalyzer aggiungendo che i dati non sono adatti per essere utilizzati come server per le temperature superficiali effettive e le registrazioni climatiche. Dichiarato dalla direttrice delle comunicazioni strategiche dell'ente. Allora diciamola bene, forse il giorno più caldo degli ultimi 44 anni secondo un modello di simulazione computerizzata e non dati reali misurati, ed estate 2003 permettendo. Torniamo ai nostri tre fantastici quotidiani e vediamo cosa affermavano alla luce di quanto visto. La stampa parla di giorno più caldo da quando l'essere umano registra le temperature atmosferiche. Non è vero, l'abbiamo appena visto. Il Corriere della Sera afferma che è la temperatura media più alta sulla superficie dell'intero pianeta da quando le rileviamo con strumenti affidabili. Più o meno l'inizio del Novecento. Non è vero, a meno che il 1979 sia l'inizio del Novecento. Repubblica ci rassicura, non si fa in tempo a scrivere che il 3 luglio è stato il giorno più caldo della Terra, che il record è stato già superato. Ora quello più bollente come temperature e medie globali è conteso tra il 4 e il 5 luglio. Informare che sono dati non convalidati, utopia ed ai nostri quotidiani cautela poca, ma propaganda tanta. Di Cart, direttore del Centro Nazionale per l'informazione ambientale, una divisione della NOA, ha affermato. Nella comunità delle valutazioni climatiche non credo che assegneremo un'osservazione di un singolo giorno la stessa solennità che attribuiremmo a un mese o un anno. Infatti il nostro furbacchione di un Guterres, prima ancora che finisse, era il 27, ha parlato del luglio più caldo di sempre. Anche se un mese è ancora ben poco significativo rispetto ai 30 anni del periodo classico, soprattutto per il contenuto catastrofico illustrato dal capo dell'ONU, ammettiamo, ma non concediamo, che passando dal giorno al mese più bollente, i dati siano affidabili. Verifichiamo perché noi ci fidiamo, ma siamo seguaci di San Tommaso. Vediamo che la NOA twitta che luglio 2023 è il più caldo da 174 anni. Tweet subito condiviso dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ricordiamo agenzia dell'ONU, è confermato sul sito ufficiale. 174 anni vuol dire fare un salto temporale al 1849. Ma quali stazioni di rilevazione erano presenti nel mondo negli anni dei grandi moti nazionali? Dall'enorme archivio del Global Historical Climatology Network troviamo la mappa delle stazioni di rilevazione e quelle indicate dei punti neri hanno più di 150 anni. Il dottor Tony Heller ha extrapolato la situazione al 1850 e i centri di misurazione erano solo nel nord del mondo. Tra il 1891 e il 1920, dati della NOA, in tutto il Sud America c'era un solo centro di misurazione, a Buenos Aires, solo uno in Africa, nessuno in Cina e pochissimi nel resto dell'Asia. Tutto confermato dal National Center for Atmospheric Research che nel 1974 analizzava sì un secolo di dati, ma specificava che i primi decenni erano solo nell'emisfero nord. Quindi come possiamo segnare il titolo di mese più caldo da 174 anni se almeno per i primi 70 non abbiamo dati globali. Scaviamo un po' più a fondo, la NOA divide il mondo in particelle e analizza la temperatura media di ogni area. A luglio 2023 diverse zone sono rosso vivo indicante il record di sempre rispetto alla temperatura media. Africa centrale, Brasile del Nord, Venezuela, tra le tante, ma non le cito a caso. Perché scaviamo e scopriamo che la NOA pubblica anche i dati di quanto la temperatura media di luglio 2023 si scosta dalla media delle temperature 1991-2020 e Africa centrale, Brasile del Nord e Venezuela sono zone grigie. La didascalia ci dice che le zone grigie sono aree di dati non disponibili. Ah, e i dati precedenti che sancivano i record di sempre la NOA allora dove li avrebbe recuperati? La Gran Bretagna è data come area con temperature di luglio 2023 al di sopra della media. Analizzando il dettaglio del Met Office, nessuna zona dell'isola ha avuto media anomale rispetto al periodo 91-2020, anzi piuttosto basse. Sono molti i dati degli annunci catastrofici dei media che lasciano molte perplessità. I ghiacciai in Groenlandia, considerati in ritiro mediatico, ma dal 2012 in espansione, come anche la tabella del 74 vista poco fa e ritoccata dalla NASA. Per non appesantire la trattazione con decini di numeri e casi, troverete in descrizione il link di un notevole lavoro delle Real Climate Science sulla credibilità dei grafici sul clima che ci vengono sistematicamente proposti e i link di tutto ciò qui affermato. E la nostra Italia? Secondo i dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, sezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sempre dati non convalidati, teniamolo a mente, il luglio appena passato è stato il terzo più caldo dal 1800. Ma le differenze da zona a zona sono notevoli. Al sud i dati lo pongono come mese più caldo di sempre. Al nord è il nono. Ma poi i primi dieci giorni di agosto hanno visto un repentino calo delle temperature, tanto che ha fatto il giro della rete la foto del pupazzo di neve sulla marmolada il 4 agosto e che a differenza del grande stupore dei soliti media è un fatto capitato, per rimanere solo in anni recenti, già nel 2020 e nel 2021. E anche gli ultimi giorni agostini difficilmente faranno la gioia dei media catastrofisti. Lunedì 28 agosto, neve sulle Alpi, nel video il comune piemontese di Sestriere, imbiancato dai 1800 metri d'altitudine e che ha richiesto l'intervento degli spazzaneve. Sul lato svizzero del Cervino, neve a Zermatt, 1600 metri, per fare alcuni dei tanti esempi. Anche se sembra di moda dare le classifiche prima della fine dei periodi, considerando l'ultima stagione già terminata, primavera 2023, i dati sono assolutamente neutri. La diciottesima primavera più calda, ventiseiesima al sud, la più calda ormai 16 anni fa, nel 2007. Un inciso fondamentale, la soluzione che viene riproposta, fino alla nausea, è la riduzione della CO2 prodotta da combustibili fossili, soprattutto nei paesi occidentali. Analizzando i dati, sempre rimanendo col beneficio del dubbio che la CO2 sia un problema, notiamo che il Nord America ha diminuito le sue emissioni di oltre il 20% negli ultimi 15 anni. Ancora meglio l'Unione Europea, emittente ormai di poco più del 7% della CO2 da combustibili fossili, è toccato il picco assoluto nel 1979, l'inizio del Novecento per qualcuno, e da oltre 40 anni in costante calo, tanto da aver diminuito di oltre il 30% ed essere tornata ai livelli di fine anni Sessanta. L'Italia, secondo i media terra ormai fuori controllo, ha valore in calo da 18 anni ed è tornata al livello di emissioni del 1972. Sicuramente, oltre a comportamenti diversi nella quotidianità, il calo di produzione industriale, ahimè, è componente importante di tali risultati. Il vero produttore di CO2 è il continente asiatico, sia per l'ovvietà di ospitare oltre il 60% della popolazione mondiale, sia per l'uso in aumento, e non calerà breve, di centrali a carbone. Ha senso che l'Unione Europea voglia farci cambiare modo di spostarci, obbligarci a interventi edilizi insostenibili, voler farci mangiare insetti e tante altre sciocchezze, in nome di una falsa emergenza? E che, se il problema è, la responsabilità è altrove? Si prevede cosa si racconterà nel 2024, nel 2025, le cartine e le mappe delle temperature saranno sempre più disegnate in rosso ebollizione, il nuovo colore che spopola tra i grettini. E a proposito, che sensazioni vi darebbe se fossero invece così rappresentate? Freschezza? Ma di sicuro nel 2026 si celebrerà nei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, qui nella caricatura del Tricca, e non si potrà non invitare Guterres e i tanti accollarmisti a fini vari, a festeggiare l'autora di Pinocchio, il contafrottole per eccellenza, anche se una cosa vera l'hanno detta. La parte critica del cambiamento climatico è sicuramente di origine umana. Alterare grafici e dati non lo fa certo il sole.